C'è questa componente che è molto bella, molto importante, e l'etica nell'arte è una qualità che deve essere vissuta sia da una parte che dall'altra. Ritorniamo ancora alla pirateria per un'altra porta, sostanzialmente. Questo soprattutto quando si fa cinema documentario, la cosa più difficile è non soltanto avere dentro, essere una persona per bene, che non fa delle cose in modo intenzionale contro chi tu intervisti. Io personalmente non amo molto l'aggressione del personaggio anche laddove tu non sei d'accordo con le sue idee. Ma al di là di quello deve diventare una scelta di stile. Uno può farlo in buona fede, ma può a volte usare delle tecniche che fanno un brutto film, lo fanno anche stilisticamente un brutto film. In questo senso dico che questa è una riflessione che è fondamentale. Quando un allievo studia qual è il suo linguaggio, questo linguaggio non è fatto solo di tecniche di ripresa, non è fatto solo di idee, ma è fatto anche del suo rapporto con le persone che vuole riprendere. Quando uno vede un film di Rossellini, per esempio, adesso non so quanti, qui hanno visto tanti film di Rossellini e vedi quei volti, dici ma perché mi commuove quel film? Cioè, varie volte il critico si mette lì e cerca di spiegartelo. Ma è molto importante l'occhio del regista che sta dietro la macchina da presa. Senti l'uomo regista dentro quel volto che ti ha raccontato. Non c'è niente da fare, penso che questo è la capacità di un artista di unire idee, sentimenti, morale in una scelta di stile, in una scelta artistica, questo è un artista. Questo adesso non so come si collega al discorso che stiamo facendo altrettanto importante per un artista, che è quello del rispetto del proprio lavoro. Cioè, noi dobbiamo dare morale, avere una morale nel nostro rapporto con il cittadino che rappresentiamo, così dall'altra parte vogliamo rispetto dal cittadino rispetto al nostro lavoro. Questa scelta non è, diciamo, la cosa sbagliata sarebbe chiedere a quelli meno forti, cioè ai giovani, quelli che magari hanno meno soldi anche, e non prendercela invece con i maggiori responsabili della crisi del cinema italiano, che sono i top ten, che sono quei poteri forti, che sostanzialmente non restituiscono al cinema tutto ciò che ottengono dal cinema. Ci sono delle frasi fatte, c'è la crisi del cinema italiano, il cinema italiano non lo vede nessuno, identificando il vedere un film con la sala cinematografica. Anche qui sfatiamo sta storia, cioè voglio dire, noi vogliamo salvare le sale cinematografiche, vogliamo moltiplicarle, ma è inevitabile che oggi il pubblico è un pubblico che usa anche altri luoghi, altri modi di fruire il cinema. L'importante è che chi fruisce del cinema, di quelle emozioni, sia su un telefonino, sia su un grande schermo, sia su un televisore, sappia che quello è il lavoro di qualcun altro che va pagato, va pagato in altro modo, probabilmente forse di meno, ma quel rapporto con il fatto che non è più soltanto la sala cinematografica, il luogo dove un film viene fruito, credo sia molto importante anche da un punto di vista politico. Usiamo questa parola, devo dire che avendo rappresentato per vari anni un'associazione di autori, devo dire che la battaglia che ha fatto l'Agecom ha avuto il sostegno convinto dei cent'autori, dell'ANAC, perché abbiamo capito, forse un po' in ritardo anche noi, che il problema era affrontare il discorso della fruizione di un film in termini più lati rispetto alla difesa della sala, e quindi essere vicino anche alle istituzioni dove stavano difendendo i nostri diritti, anche con suggerimenti rispetto a ciò che si doveva fare, e soprattutto identificando il discorso della battaglia contro la pirateria, non soltanto la battaglia contro i piccoli corsari, ma contro i grandi corsari, i grandi corsari, quindi il problema è che se quelli riusciamo a farli pagare, riusciamo a fargli pagare le tasse, probabilmente avremo il diritto di pagare meno noi tutti quanti, quando dovremmo andare a vedere un film in televisione. Allora, ognuno deve prendersi la sua parte di responsabilità, io credo che abbiamo, su tante cose forse avremo punti di vista diversi, ma forse la cosa su cui riflettere è che un pirata più pirata degli altri ce l'abbiamo tutti contro, e penso che in quel senso si possa fare una battaglia comune, una battaglia per avere il diritto a vedere i film anche più rari, perché anche noi adulti certe volte vorremmo vedere un film che non sappiamo più dove trovarlo, la nostra cineteca, perché il centro sperimentale è anche una cineteca, è aperta, ma è molto complicato, forse è più semplice se fosse possibile trovarlo in rete a dei prezzi sostenibili, insomma, quindi questo diritto dello spettatore a poter fruire di tutto il patrimonio del cinema deve essere garantito, perché anche questo non è affatto scontato, cioè che uno spettatore possa accedere a tutto il patrimonio cinematografico che esiste, ma dall'altro non dovremmo essere disposti a riconoscere questo in termini di partecipazione economica. Grazie Stefano Rulli.